buongiorno buongiorno amici coloro che ci seguono coloro che vogliono alimentare un po di speranza perché poi in queste giornate particolari in queste giornate particolari ritrovo la falsità dei uomini e delle donne ritrovo la falsità di un popolo italiano che fa finta di piangere gli piange il cuore, gli piange tutto però poi non scrive commenti, non mette post, non condivide il video però in questo momento è con Falcone, è contro tutte le mafie questa mattina avevo pubblicato un post, amici potete collegarvi con Lino Polimeni, condividete il video questa mattina avevo pubblicato un post, un post dove Repubblica del 23 maggio del 1992 scriveva assassinato a Falcone, ho pubblicato non c'è stata reazione, allora io mi chiedo collegamenti della RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3 tutte le passarelle possibili e immaginabili, ora chi vi parla è tutti i giorni sul campo, in questo momento sono su un campo vedete libero, verde, perché posso gridare, gridare la vergogna, gridare coloro che in questo momento non partecipano col cuore in una manifestazione, non partecipano con i sentimenti del dolore a quello che è un dramma delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine non hanno bisogno di vedere quei politici anche a Palermo, ma anche in Calabria, in Italia, che hanno criticato, che criticano, che stanno tra lo Stato e l'antistato che sono obbligati a dire sì alle mafie e poi vanno lì a piangere, ma che cosa piangete? E allora io ho detto e ho scritto in questo post che ho eliminato, perché quando non c'è reazione e non c'è risposta, il post è un'offesa per i morti delle mafie e quindi ho scritto per combattere le mafie bisogna farlo 365 giorni l'anno, non serve, ho voluto far capire, non serve oggi piangere i morti, non serve oggi piangere quello che sta accadendo in questo territorio, per non dimenticare i nostri boss, per non dimenticare coloro che comandano questo territorio. La Calabria ha 220 famiglie di indrangheta, la Calabria ha 80.000 affiliati nel mondo, la Calabria fattura 55 miliardi di euro ogni anno, le mafie, l'indrangheta è la più grande organizzazione criminale al mondo, non serve oggi. E da domani, e da dopodomani che si comprende i calabresi, gli italiani, coloro che hanno qualcosa da dire, condividete questo video. Oggi è vero che sono i 30 anni di Falcone, ma dopo 57 giorni a luglio scoppiò anche, fecero saltare anche Borsellino. È vero, bisogna ricordarlo, ma non serve di fronte al silenzio, di fronte ai compici, di fronte a quello che la gente vede e non parla, di fronte agli usurai, di fronte alle estorsioni, di fronte a tutto quello che giornalmente noi affrontiamo. E allora condividete questo video, condividere questo video significa dire no alla mafia 365 giorni l'anno, condividere, scrivere un commento e metterci la faccia. È inutile che voi guardate il video e poi praticamente non partecipate o non scrivete o non dite la vostra o anche dopo che vi arriva la notifica della diretta, tutto quello che volete. Bisogna in qualche maniera da domani, da domani mattina dire no alla mafia, da domani mattina bisogna agire, creare rete da domani, non in casa propria, col pensiero, col cuore, anche mettendoci la faccia. Allora gli italiani se ci mettono la faccia, probabilmente 365 giorni l'anno. Condividere già questo video è un modo per dire no alla mafia, no all'andrangheta, no alla cavorra, no alla saga Corona Unita, no a quella politica dei mercenari, ai lupi della politica, ai lupi coloro che stanno distruggendo questa terra con la complicità di quelle persone che si fanno calare in bucca in bucca che in pratica non c'è niente. Questo è il modo mio di pensare, di dare il mio contributo in questa giornata. Io non ci sto alle passarelle, non ci sto a quella politica becera, non ci sto. E attenzione, ne vedremo delle belle perché probabilmente questa settimana o domenica ci sarà una grossa sorpresa in merito a una denuncia, a uno scandalo che si sta aprendo in Calabria. È una cosa che riguarda la politica, che riguarda il governo, ma questo è quello che noi cercheremo di capire fino a quando bisogna sopportare questi incapaci che accontentano il parente, il nipote e gli amici di merenda. Questa è la storia. E questa è la Calabria che vogliamo e questa è l'Italia che vogliamo. Condividete e condividere vuol dire non essere passivi ad un video, vuol dire combattere e creare le condizioni. Perché in questa maniera io ho dato un tempo, ho dato un termine e vi sto avvisando in maniera tale che i miei detrattori non diranno che io sono stato accontentato poi dalla politica. Io dicembre 2022 deciderò se continuare a fare queste battaglie, continuare a raccontare quello che penso dire, stop ad articolo 21, stop alle denunce, stop alle pagine di denuncia e tornare al talk show, tornare alla televisione del sorriso, tornare a fare un altro tipo di televisione. Perché se l'Italia non cambia, i calabresi non cambiano, i siciliani non cambiano, i pugliesi, i campani, per quale motivo devo restare solo in questa terra a gridare a uno scandalo quando nessuno è scandalizzato da quello che noi subiamo tutti i giorni. Allora mi sono dato un tempo, voglio ricredermi al 2022 dicembre, dal primo gennaio 2023. vi sapò dire cosa succede dentro di me se continuare questa battaglia o dire stop in maniera definitiva. Perché se non si svegliano le coscienze e se i calabresi, gli italiani non roppono le catene e accettano di dire stop agli appalti abusivi, agli appalti dei complici, ai lavori fatti per gli amici, ai posti di lavoro garantiti con un pacchetto di voti, basta a questo sistema. Allora la Calabria potremmo dire che è cambiato qualcosa o si sono svegliate quelle coscienze, ma le coscienze prima di tutto lo devono fare chi si devono svegliare principalmente sono i giovani che sono in qualche maniera attratti dall'aspetto negativo dei genitori che dicono sempre la solita frase, lascia fottili che potremmo avere bisogno. Un abbraccio e grazie di cuore.